Ma buongiorno da Marina City! E come non può essere un buongiorno se c'è il porridge freddo la mattina? Buona appetuta a tutti! E da un botto non si vedeva il porridge nei miei video! Questa è Sbugba! Ottima colazione per iniziare la giornata al top! Ovviamente io la mattina stessa in a quale devo andare al lavoro mi riduco a dover andare al mercato per trovare le schiscette per metterci il cibo! Porca vacca! Ah, il paradiso delle schiscette! Prendiamo questa schiscetta enorme! Guarda io prendo questa qui! Bene, anche i nostri pasti a bagnino saranno al sicuro! Cioè, mamme! Vado al lavoro! C'è il mio paniere con tutto il cibo! Sembra che io faccia il bagnino per andare a fare picnic sulla spiaggia! Probabilmente è così! Diciamo che è un ottimo pretesto! Eh? Oh, ma che è qui? Si va al lavoro! Va subito là, percorri! Che fai? Calma piatta! Non si prospetta essere una giornata troppo pericolosa per i nostri cari amici bagnanti! Ma ho le tue braccia! Andiamo verso la nostra postazione! Che è quella laggiù! Il mio obiettivo per oggi è quello di non scottarmi! Sarà dura! Sarà molto dura! Sento già la mia pelle che sfrigola! Ma che bella! Hanno messo il recintino intorno alla torretta! Così le persone non verranno più a stendersi all'ombra della mia torretta! Signore e signore! Benvenuti a casa mia! Nel mio metro quadro di casa! Prima di fare qualsiasi cosa! Crema solare! Andiamo! Una bella spalmata nelle spalle! Sentite che brutto rumore! Così sono il classico bagnino da Baywatch! Nasettino bianco e taxi va a comandare le spiagge! Mi si vede la crema! Quest'anno abbiamo le torrette nuove con la serratura! Sembrano dei bagni chimici! E finalmente abbiamo il Baywatch! Così possiamo correre sulla spiaggia a rallenti a petto nudo! Mitico fischietto! E il nostro turno ha ufficialmente inizio! E oggi per questa mia prima giornata di lavoro mi è toccata la torretta sfigata! Infatti è una torretta che ancora non ha tutto il materiale! Tipo non ha il pattino! Serve solamente il supporto per la torretta 25 che è quella laggiù! Quindi diciamo che oggi io sono un bagnino tappabuchi! Ho anche trovato il mio collega di lavoro! Ciao Johnny come va? Hai dormito stanotte? Hai dormito? L'interno di questa torretta è lo stesso odore di un mobile dell'IKEA! Ma la cosa più bella è che quest'anno abbiamo i walkie talkie! Finalmente! Prova! Torretta numero 25 mi ricevi? Non mi risponde nessuno! Ah eccola qui la bustina dell'IKEA! Non so chi sia non è non è la torretta 25! Bene se la torretta 25 non viene da me sarò io andare alla torretta 25! Ma quindi adesso dovrei spogliarmi e correre sulla spiaggia? È così che funziona quando prendi un bay watch! Ma eri te che parlavi? Ma da quanto parlavi? Non ti chiamavo 26! Ma che sentivi? Ma no! Prova! Prova! Mi senti? Prova! Ti sento forte e chiaro! Bene! Adesso siamo operativi! Guarda che tre! Mi faccio appare il gavitello! Il terrore per la catena non si vede alla fine! Tutto tranquillo qui! Ciao bagnino! Torretta 25 osservata e adesso si torna alla mia postazione! Biii ma chi sono quegli esserini? Biii ma sono dei piccoli di gabbiano! Sono arrivate le 11 quindi questo vuol dire solamente una cosa! Sono tornati loro! I mitici fagottini! Senza dubbio la parte che preferisco delle giornate da bagnino! Panini con la fesa e la mozzarella! Spettacolo! Inauguriamo questa stagione da bagnino! Buona appetuta a tutti! Verso le 11 e mezzo arriva l'ombra in torretta! E con lei arriva un freddo bestia! Può sembrare strano ma mi devo mettere la felpa al mare! Passa la capitaneria qui in spiaggia? Non lo so se è a piedi o con la barca! Ricevuto! Forse avremo visite! Questo è l'unico modo che ho per bloccare un minimo il freddo! E ad essere sincero ho comunque freddo! Cioè ho tre strati addosso! E la gente davanti a me cammina a petto nudo! Cosa strana non torna! La situazione comfort termico è decelerata! Però adesso è arrivata la parte bella della giornata! Quindi che dire! Buona appetuta a Titti! Di nuovo! Che bello! Le mie gambe stavano diventando due melanzane! Bene! Il mio qui oggi l'ho fatto! Iniziamo a smontare! Sembro indizi di un crimen walkie talkie dentro questa bustina di plastica! Devo dire che questa prima giornata di lavoro è passata abbastanza easy! Però non mi aspetto di ridirlo pure a fine estate! Ciao ciao torretta ci vediamo domani! Ehi ciao perro della spiaggia! Porca vacca è caldo! È venuto un raffreddore! No! Stammi lontano! Un braccio di distanza impestato! Io non ho più l'età per uscire la sera dopo aver lavorato! La volta scorsa siamo andati in qua! Ora si va in là? No si torna in qua! Succede una cosa strana là! C'è troppa gente! Ma c'è Salvini là? C'è Salvini? Sì! Mi sono fatto anche la foto! Ho fatto questo! Salvini! Andiamo a vedere Salvini! Salvini e Maria di Grosseto hanno una grande presenza! Mi fa ridere! Salvini e Maria di Grosseto! Ma che sei lo zio? Sì! Mi sei lo zio su te! Sì! Mi è venuto a Daily Vlog allora! Ah va bene! Ah minchia! Ho detto Salvini! Io non c'ho voglia di andare a salutare ma voglio il gelato! Ciao ragazzi! Stava un piacere! Non avremmo incontrato una bella ragazza però abbiamo incontrato Salvini! Che topolona!